Il colpisco nel basso dell'esercito, un po' di blocco, approfittano di posizioni di armi per lanciare delle operazioni di griglia e terroristi, usano altrettanto gli avvisatori sicili, e chiaro discutano un po' la loro conoscenza del terreno, soprattutto un terreno gigantesco più difficile da controllare. Oh, il colpisco è laureata, e credi anche a Babbo Natale. Spegni la sfiducia e accendi il computer. Su Infojobs.it trovi 2000 stage. Infojobs, il posto fisso per cercare lavoro. Ehi signor Conad, signora Cuccarini, mi parli del controllo pari... Vedi regolamento su expertonline.it. Anche una giornata nera può essere speciale. Sei il Black Friday. Dal 24 al 26 novembre, nei 600 Mondadori Store, e su Mondadori Store.it si festeggia il Black Friday. E suggeriamo qual è la tua caldaia ideale tra quelle da noi offerte. E poi... Otra kiss kiss. Perché con Genius, l'energia è tua e lo stress di qualcun altro. Scopri di più su enigasettuce.com Kiss kiss. Il cambiamento parte dalle nostre scelte. Ecco perché... ...el tuo compreanno. No, domani. Comunque... ...con il tuo incubo, eh? Io l'ho anticipato, comunque. Allora, per il pubblico si viene chiarico che è mia carissima collega... ...donna di rara generosità... ...e... 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 ...cominciato a me è da... ...tempo immemorabile, siamo amici da tempo immemorabile... ...del 69... ...e la mia corrispondente da Milano. Allora bene, va bene Silvia, era... ...un omaggio doveroso, più che doveroso, va bene. Grazie a tutti i miei... ...molti auguri ancora, va bene. Ciao. Ok. Allora, 17-49 minuti... ...se avete acceso da qua per piedi 125... ...e avete perso tutta un'ora di Renzo Arbore... ...in Radio Monte Carlo. ...e sarà arrivo un'offerta molto interessante... ...un paesino del canton valese... ...incastonato tra i monti che si chiama... ...e la mia corrispondente da... ...ma per piedi qui si chiama...